Dobbiamo smetterla di voler soddisfare il loro fine e noi con questo lavoro per delle paghe da schiavo dobbiamo smettere di essere schiavi del debito dei banchieri che ci governano. Allora la gente potrà scegliere se servire Dio al posto del denaro, l'intero sistema collasserà. Tutte queste bugie fabbricate fanno parte della loro pianificazione, questo è il Dio supremo. E noi potremo scegliere se continuare a servirli col sistema basato sul loro denaro anziché Dio, perché nessuno può servire due padroni. Grazie a tutti.